La vicenda del serial killer che a Cipro ha ucciso sette persone continua a far saltare teste eccellenti. Dopo il ministro della giustizia che si è dimesso ieri, esce di scena il capo della polizia, Zaccaria Scrisisostomo, rimosso dal capo dello Stato a mezzo lettera pubblicata dai media. A entrambi si contestano la superficialità e la scarsa efficacia delle indagini sui casi di sparizione al momento della loro denuncia. Superficialità e scarsa efficacia che avrebbero favorito il presunto serial killer, un capitano dell'esercito, Nikos Metaxas, che ha confessato di avere ucciso cinque donne, tutte collaboratrici domestiche straniere e due bambine. L'ufficiale ha ammesso di avere gettato tre delle sue vittime in un lago. Lì, domenica, è stata recuperata una valigia con un corpo in stato di decomposizione, mentre qualche giorno prima un altro cadavere era stato scoperto in un poligono di tiro militare a circa 15 chilometri di distanza. A Metaxas si è arrivati analizzando i messaggi che una delle vittime aveva postato su un sito di incontri destinandoli a lui, analisi dalla quale è emerso che la donna uccisa e il militare avevano intrattenuto una relazione durata sei mesi.